sta scritto nel dna il dna come oramai tutti sanno quasi tutti insomma tu lo sai è la memoria genetica quella che passa da padre madre ai figli si chiama dna allora che cosa sta scritto nel dna allora la scoperta del dna è recente così recente che quando ero bambino quindi quando ero bambino vuol dire nato nel 46 vuol dire tra la fine degli anni 40 agli anni 50 i genitori quando indicavano i figli dicevano sangue del mio sangue poi invece c'è stata questa scoperta della memoria cellulare nel dna chiamata dna e che cosa hanno visto che una parte del dna è proprio la memoria effetto quasi fotocopia tale quale cioè il genitore e bianco o nero la madre e bianco nel suo avviene fuori o bianco nero o meno bianco e più nero o meno nero più bianco quella la memoria la faccia il viso a assomiglia al padre assomiglia la mare no assomiglia alla linea materna no assomiglia di più a quella paterna quella la memoria poi per molti anni c'è stata una buona parte dicono il 95 che ci dice il 97 per cento del dna che poi gli americani l'ha chiamato dna junk spazzatura non si capiva cosa serviva poi invece hanno cominciato a capire ma il punto mio di oggi poi a poi quello che succede dal momento del concepimento per sei o nove mesi secondo se uno nasce prima o nasce regolare quella è l'epigenetica cioè le influenze di suoni temperatura cibo vibrazioni parole ambiente influenza questo gruppo di cellule in crescita che rappresentano il futuro nascituro insomma nella nella astrologia occidentale l'oroscopo si fa nel giorno della nascita in quella orientale invece è meglio sapere il giorno del concepimento tante che andavano e vanno ancora in india chi ha fiducia nell'astrologia a chiedere quali sono i giorni in base alla carta astrale della futura madre futuro padre quali sono i giorni favorevoli per concepire un figlio buono chiamiamolo buono una giornata buona per concepire cioè per invitare qualcuno a nascere a nascere donne mesi dopo insomma c'è un'astrologia sul giorno del concepimento e un'altra sul giorno della nascita ma che cosa ho scoperto io 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 l'ho scoperto sicuro perché quando qualcuno muore cioè quando il corpo si ferma anche chi non ha grandi fedi tende a dire è volato via è andato lassù lassù incontrerà no c'è l'idea del lassù no col dito su ma lassù dove allora io dico se un'opera d'arte è firmata un'opera di moda è firmata un libro è firmato alcuni libri dicono che l'ha scritti dio in persona o i profetti quelli che parlano nome di dio ora che che l'autore di tutte le specie viventi vegetali animali e umane superta terra sia un singolo quindi monos uno dio unico o più o più divinità quindi chiamato politeismo più più di dio sicuro c'è che il creatore o io dico i creatori sono intelligentissime intelligentissime quindi che come secondo me come avrebbero o hanno anzi non avrebbero hanno secondo me hanno firmato il loro prodotto nel dna tutti parlano di libri sacri non è che i libri chiamati sacri non siano sacri perché hanno tanti valori interessanti però sono sempre scritti da qualcuno per qualcuno che sa leggere e scrivere allora c'è da chiedersi ma al tempo dei veda quanti sapevano leggere e scrivere al tempo della bibbia quanti sapevano leggere e scrivere al tempo del vangelo quanti sapevano leggere e scrivere al tempo del corano quanti sapevano leggere e scrivere io so che quando sono nato io negli anni 40 dicevo o anche negli anni 50 non tutti sapevano leggere e scrivere Io da bambino, anche da ragazzo, ho incontrato delle persone che non sapevano leggere e scrivere, tant'è che il professor Manzi quando fece la trasmissione televisiva non è mai troppo tardi ebbe un grandissimo successo perché diede una spinta a milioni di persone che non sapevano leggere e scrivere usando la televisione a imparare a leggere e scrivere. Attenzione, non sapevano leggere e scrivere, ho assistito io in una banca di Ascoli Piceno dove aveva mia nonna che uno è andato a firmare con una croce e due testimoni che dicevano che lui era lui, che quella persona era quella persona ed era in grado di intendere e di volere. Quindi che noi veniamo dall'assù, dal cielo, da para-dash, pianeti dash, luoghi superiori, da cui paradiso, è scritto nel DNA. E come ci si arriva? Ecco quindi i creatori non potevano scrivere su un pezzo di carta che può essere bruciato o buttato, non potevano scrivere in una lingua quando un altro parla un'altra lingua. Il regno dei cieli è dentro, ma dentro cosa? Dentro la memoria genetica. Dentro di voi, dove? Dentro la memoria genetica. E come uno fa a leggere la memoria genetica? In stato di calma, di calma, in stato di preghiera, di meditazione, di silenzio. In molti monasteri c'era scritto silentium, che vuol dire silenzio, pace. Gli eremiti cercavano i luoghi più isolati, silenziosi, tranquilli, per leggere dentro, poi regno di Dio, regno dei cieli, la verità. Sant'Agostino, che era un santo acclamato della Chiesa, era africano, è interessante, l'africano, un santo acclamato della Chiesa Cattolica, diceva non uscire fuori di te, la verità è dentro. Lo diceva in latino, noli foras iri in interiore homine habitat veritas. La veritas sta dentro, ma dentro dove? Perché se noi andiamo a vedere la vita interiore dentro, uno cosa pensa? Il fegato, la milza, il pancreas, la cistifeliere, dentro dove? Quando uno dice, io me lo sento dentro, dentro la memoria cellulare, dentro il DNA. E cosa sta scritto? Che noi non siamo di questo mondo. Gesù lo diceva, sempre sta parola regno, perché le traduzioni erano fatte nel periodo monarchico, quindi il mio regno non è di questo mondo. La mia casa, io non sono di questo mondo. Sono nel mondo, ma non appartengo al mondo. Quindi c'è una memoria che uno acquista, riacquista, c'è una memoria, c'è una firma, c'è una informazione che fa capire in stato meditativo, in stato di calma, in stato di estasi naturale, chi prega rilassato, certi luoghi particolari che noi veniamo dall'assù. Quindi noi siamo qui, dobbiamo ascendere, salire, per tornare là dove eravamo già. Noi c'eravamo già. Quindi è un ritorno a quelle che possiamo chiamare origini, le nostre origini. Noi c'eravamo già là. Per quello anche ho visto persone ate che quando muore qualcuno è volato via, è passato a miglior vita, ha smesso di soffrire. È lassù, lassù. E credendo che lassù ci sia qualcun altro, dicono, ah lassù poi incontra questo, questo, questo. Nel libro Autobiografia di uno Yogi, si pronuncia Yogi, si scrive Yogi, Paramahansa Yogananda a un certo punto incontra il suo guru Yukteswar, che aveva lasciato il corpo, che riappare col suo corpo fisico e gli dice cosa succede nei pianeti astrali. Sono pianeti che, di un'energia diversa da quella che noi chiamiamo materia. Già Max Planck, la fisica teorica già del secolo scorso, spiegava che tutto è energia. Quindi quella che noi chiamiamo materia è energia materiale ed è paragonabile all'acqua, allo stato solido. Poi la stessa acqua diventa liquida, diventa vola, la nuvola diventa più leggera e poi ricade l'acqua, la pioggia. Quindi noi, lui spiega, quando lasciamo questo corpo fisico, o rinasciamo qua, in questo pianeta, che è un pianeta mediano caratterizzato da nascita, malattia, vecchia e morte, o andiamo nei piani astrali, piani e pianeti astrali, cioè piani, dimensioni o pianeti proprio, dove lì c'è solo nascita, vita e morte, non c'è malattia, non c'è la vecchia, e quindi stanno meglio di come stiamo qua. Per questo che è l'idea, è lassù, la nonna è lassù, chi gli ha morto un figlio, il mio figlio è andato lassù. Se poi il bambino o la bambina muoiono, è volato via, proprio come fosse un angelo, è volato via ed è lassù, che ci protegge, ci aiuta, ci guarda. Allora, prova a meditare e scoprirai che dentro di te sta scritto che noi veniamo dall'assù. Non siamo di qua, non siamo di qua, non siamo di questo luogo. Essere di questo luogo si chiama ab origine, ab origine. Noi non siamo terrestri ab origini, siamo esseri che vengono da altre dimensioni, vengono qua e poi si identificano, lottano, si ammazzano per un pezzo di terra, sono in ansia, sono nervosi, aggressivi, hanno paura della morte, fino a quando non scoprono che noi veniamo da un'altra dimensione, che possiamo chiamare il cielo, il paradiso, lassù, buon viaggio.